La prospettiva non è rosa per nulla, stiamo valutando se fare un'azione illegale contro i finanziamentari della Corte del Programma, perché non è possibile che noi abbiamo creato tutto questo ambaradà, questa delocalizzazione dei presupposti che non sono mai partiti e oggi ci dicono che sono stati sbagliati. Ebbene, quindi non funziona altra cosa. Quindi adesso dallutiamo se il caso di un'azione legale al governo, all'azienda, a tutti quelli che si mettono l'accordo. Anche perché questo capannone doveva creare per Villanova anche un certo lotto, invece c'è rischia di essere un capannone vuoto. Chiaro, ha rischia di essere l'opposto di quello che doveva essere. Questo non può funzionare, soprattutto a due anni. Cioè, non mi puoi dire che nel 2014 hai fatto un piano che oggi è sballato, che non funziona, con tutti quei sorogni che ci hanno messo la testa sopra, non esiste. Quindi questo non lo accettiamo. Come accettiamo i sindaci, ci sono tutti d'accordo, facevamo un incontro velocemente, vediamo di avvitare le differenze migliori.